sabato 30 aprile buongiorno a tutti e bentrovati al nostro appuntamento con il tg rassegna stampa il primo punto informativo di telepace in questo ultimo sabato del mese di aprile apriamo subito la nostra finestra sul tiguglio per vedere la situazione meteo che si sta prefigurando in queste ore alle mie spalle un cielo ancora sereno privo di nuvole ma anticipiamo subito sarà una situazione che durerà ancora per poco in quanto è previsto un rapido veloce passaggio perturbato anche sul nostro territorio in particolare per questa notte che porterà qualche pioggia e il tempo decisamente più perturbato rispetto a quello che vediamo appunto aprendo la nostra finestra sul tiguglio questa mattina una finestra che troviamo anche nel dall'entroterra grazie alle telecamere della rete limit e qui siamo sulla vetta del monte caucaso a barba gelata e il golfo del tiguglio si vede in lontananza appunto cielo azzurro e mare e calmo e sereno dunque subito uno sguardo alla intanto alla rete limit le temperature di questa mattina che comunque hanno valori primaverili siamo sui 15 16 gradi di valori medi lungo la costa un po più freddino nell'entroterra siamo ai 4 gradi della vetta del monte bue addirittura 2 gradi a rezzo aglio 2 gradi e mezzo a rezzo aglio basso quindi comunque temperatura ancora abbastanza rigide nell'interno soprattutto nei fondo valle dove l'affetto della compressione si fa sentire sui valori di temperatura uno sguardo dunque alle previsioni meteo per le prossime ore innanzitutto la situazione quella delineata dai meteorologi della rete limit si sta assistendo un calo di pressione sul nord Italia per il transito di una goccia fredda in quota che interesserà la Liguria nella serata di oggi sabato 30 aprile moderate condizioni di instabilità anche domani domenica primo maggio e lunedì 2 maggio con qualche temporale la grafica appunto ci fa vedere l'evoluzione delle meteo per le prossime ore e compare anche il simbolo del fulmine e soprattutto nei rilievi non sulla costa ma più nell'entroterra dunque al mattino nuvolosità medio alta su tutta la regione primi rovesci intorno a mezzogiorno nel gruppo saccarello fronte e sulle testate di val trebbia e aveto tra la pomeriggio e la sera l'estensione dei rovesci o temporali alla val bormida con sconfinamenti lungo le coste sottostanti nella notte possibile passaggio instabile su tutta la regione dicevamo con rovesci sparsi e qualche temporale specie nelle aree interne fenomeni meno probabili sull'imperiese e sull'estremo levante i venti saranno deboli variabili in gran parte della giornata si disporranno da nord solo in tarda serata mare generalmente poco mosso temperature in diminuzione questa è la situazione per la giornata di oggi uno sguardo alla quella di domani e domenica primo di maggio festa del lavoro ancora nubi sparse al mattino senza fenomeni nel pomeriggio sviluppo di qualche temporale su alpe liguri e tiguglio in sconfinamento verso le coste sottostanti sul resto della regione il tempo resterà asciutto e in parte soleggiato fino a sera i venti deboli moderati da nord nelle zone interne deboli da sud ovest sotto costa mare quasi calmo o poco mosso temperature stazionarie uno sguardo anche alla giornata di lunedì 2 di maggio una situazione che andrà stabilizzandosi nel corso della giornata sarà poco nuvoloso con la formazione di rovesci sulle alpi liguri e sulle testate di valtrebbia e aveto nel pomeriggio ma in allontanamento verso nord e ovviamente dato che si trattano di previsioni più a lungo termine oltre le 48 ore si invita a seguire i prossimi aggiornamenti meteo della rete Limet prima di passare alla lettura dei quotidiani in edicola questa mattina uno sguardo al santo del giorno oggi 30 aprile si venera san pio quinto papa nacque in un paese del piemonte chiamato bosco ma discendeva dalla nobile famiglia dei ghisieri di bologna frequentando la piccolina un convento di domenicani finì per abbracciarne l'ordine si festeggia oggi anche si viene oggi anche san giuseppe benedetto cottolengo il sacerdote che ha fondato anche tutta la serie di realtà che danno accoglienza anche agli anziani abbiamo qualche esempio anche su genova andiamo dunque alla lettura dei giornali in edicola questa mattina iniziamo dalla prima pagina di avvenire ancora il tema di apertura è quello della guerra non c'è scampo a mariupol slitta ancora infatti l'evacuazione dei 600 feriti e di tutti i civili borrell dice la città è l'aleppo europea ucciso intanto un combattente americano il cardinale parolin segretario di stato vaticano dice negoziati senza precondizioni bisogna tornare allo spirito di helsinki e più vicina alla missione di draghi in ucraina intanto in foto vediamo l'immagine aerea delle acerie a zovstal colpita dai pesanti bombardamenti russi bombardamenti che hanno colpito di nuovo ancora la capitale kiev morta in questi episodi una giornalista nell'attacco missilistico russo zeleschi dice uno schiaffo alle nazioni unite si accentua intanto il fenomeno dei profughi che rientrano in patria anche dall'italia dove avevano trovato accoglienza temporanea i russi hanno chiuso la piazza del quartiere della riva sinistra ciò può significare un nuovo assalto all'impianto mentre cresceva l'attesa per la possibile evacuazione dei civili dall'acciaieria a zovstal le autorità hanno lanciato l'allarme sul possibile attacco lasciando poche speranze per un'immediata soluzione positiva è il testo dell'articolo di paolo alfieri poi c'è un reportage dalla transnistria fino alla gauzia ecco le bombe a orologeria di putin e l'editoriale di eugenio mazzarella no a un mondo di autarchici resistere al cainismo fare la pace è questo appunto il messaggio che arriva anche al congresso promosso dal consiglio nazionale cattolico per il ministero ispano degli stati uniti da papa francesco che denuncia appunto questa logica di caino gli altri temi all'interno del quotidiano sulla prima pagina di avvenire quello dei migranti c'è un'inchiesta sui migranti in libia veri crimini di guerra la corte penale internazionale alza il tiro e viene coinvolta anche l'italia cade lo schermo per governi e trafficanti per il pm della corte penale gli abusi contro i migranti sono di crimini di guerra e contro l'umanità poi imprenditori cinesi proteste pakistane prato le tensioni tra comunità alimentate dal nuovo caporalato e poi la proposta in italia tagliare il debito senza inflazione con la criptovaluta la bce può assorbire titoli senza aumentare la massa monetaria grazie a riserva al 100% questi gli temi che abbiamo trovato sulla prima pagina di avvenire in dicola questa mattina passiamo invece alla prima pagina del secolo XIX la cui apertura è più locale ci parla di lavoro la sfida della sicurezza domani primo maggio festa del lavoro ma intanto a Genova si ferma l'ex ILVA sciopero e corteo sarà lunedì dopo l'incidente che è avvenuto nei giorni scorsi a Cornigliano l'ASL accusa attrezzature non a norma andiamo a leggere il giorno dopo la festa del lavoro gli operai delle acciaierie d'Italia di Cornigliano marceranno in corteo in nome della sicurezza fino all'ufficio del prefetto di Genova il caso è nato dopo lo scorso 12 aprile quando una bobina da 150 kg è precipitata da un'argano l'azienda ha dotato un procedimento disciplinare contro un lavoratore in servizio ma la relazione dell'ASL 3 ha riscontrato che l'attrezzatura non sarebbe a norma intanto il presidente Mattarella a Udine dice basta morti assurde sul lavoro e Mattarella ha anticipato proprio il primo di maggio andando a Udine nella scuola dello studente rimasto ucciso in fabbrica nell'ultimo giorno del suo tirocinio basta morti assurde questo è il suo appello in alto troviamo una sfida sportiva a Samp Genoa stasera la verità l'esito delle derby pesa sul futuro entrambe le squadre sono in piena lotta contro la per non retrocedere in piena zona retrocessione questa sera si deciderà molto sul futuro delle due squadre e poi torniamo in Ucraina la guerra in Ucraina erano i russi in volo ai confini Nato Avzostal fallito il salvataggio cresce la tensione tra Russia e Occidente mentre gli Stati Uniti annunciano entro 24 ore gli aiuti militari arriveranno in Ucraina la Nato ha intercettato jet russi sul Baltico a poca distanza dai confini della Nato Zelensky ha raccontato al Time la sua note più drammatica nelle prime ore di guerra i paradi Putin erano venuti per uccidermi intanto a Mariupol è sempre più grave la situazione dei civili intrappolati nel tunnel della cederia Azzostal ormai quasi senza cibo e acqua il governo di Kiev e l'ONU avevano annunciato un'operazione di evacuazione che però non è riuscita Mariupol è la leppo d'Europa dice l'alto commissario dell'Unione Europea per gli affari esteri Borrell ed stiamo a parlare di Ucraina venendo sul nostro territorio la Caritas a Genovese ieri ha fatto il punto sulla sua attività di accoglienza in questi due mesi da quando è scoppiata dal 2 marzo l'emergenza Ucraina e dei profughi intanto ha rilanciato anche un'altra iniziativa una raccolta fondi che verrà messa in campo nel corso delle messe celebrate in tutte le parrocchie dell'Arcidiocesi di Genova questa domenica per raccogliere fondi a sostegno proprio di queste iniziative ed è arrivato anche il grazie dell'Arcivescovo di Genova vediamo il servizio tutti quelli davvero che si stanno dando da fare affinché i fratelli e sorelle ucraini sentano davvero che sono accolti che gli vogliamo bene e che vogliamo condividere con loro un pezzo di strada della nostra e della loro vita il grazie dell'Arcivescovo di Genova Monsignor Marco Tasca a tutti coloro i quali da subito si sono impegnati e ancora oggi continuano a spendersi per accogliere e sostenere il popolo ucraino sia quello rimasto in patria sia le persone che sono scappate e sono arrivate in Italia per cercare di salvare la propria vita e quella dei propri cari quasi 2200 quelle che si sono rivolte al centro allestito dalla Caritas Genovese nella chiesa di Santo Stefano delle quali oltre la metà minori 820 famiglie accolte dai 150 volontari al lavoro a partire dal 2 marzo e che hanno risposto all'appello della comunità ucraina genovese di non essere lasciata da sola la mia richiesta di non lasciarmi solo in questa situazione è stata non solo ascoltata subito ma anche assicurata che tu non sei da solo perciò la vicinanza di padre Marco e di altri sacerdoti con fratelli di tutta la diocesi l'ha sentita subito un impegno che non si ferma e che può essere sostenuto concretamente anche domenica quando in tutte le chiese della diocesi di Genova verranno raccolte offerte che serviranno a sostenere l'impegno della Caritas l'altro fronte aperto resta quello abitativo ad oggi sono ancora molte le ospitalità temporanee che vedono la coabitazione in uno stesso alloggio di nuclei familiari che ne ospitano uno ucraino per questo la Caritas genovese rinnova l'appello a chi avesse a disposizione degli spazi da destinare a sistemazioni più strutturate abbiamo una fame enorme di recuperare appartamenti dove poter sistemare queste famiglie col metodo che dall'inizio Caritas propone come dato gratuito della Caritas con la famiglia a fronte dell'impegno di Caritas di coprire le spese di tutte le utenze per il periodo che l'appartamento sarà occupato da questa famiglia e quindi rinnovo con forza la proposta, l'invito a tutti quanti a darci una mano nella ricerca di alloggi Continuiamo la lettura della prima pagina di Avvenire in Edicola questa mattina con una foto che ci parla dell'inaugurazione a due anni dal collasso della struttura sul Magra del ricostruito ponte di Albiano era crollato, era collassato provocando anche alcuni feriti ieri c'è stata l'inaugurazione della struttura e ha ancora aperto il fascicolo sulle cause del crollo e lo vediamo, il ponte di Albiano tra Toscana e Liguria è realizzato da Fincantieri Infrastructure sul modello anche del ponte di Genova Passiamo alla prima pagina del secolo XIX del Levante l'edizione del Levante ci parlano ancora di infrastrutture un'altra, parlavamo del ponte di Albiano inaugurato, un'altra vertenza occupa anche l'attenzione del nostro territorio con quello del tunnel stiamo parlando del tunnel di Bargagli e Ferriere che è al centro di un'attività di restauro, di riqualificazione che però ha riscontrato un problema si è verificato nei giorni scorsi nelle ore scorse un crollo all'interno della struttura per cui è stato deciso di revocare il provvedimento di traffico alternato con aperture temporizzate in una direzione e nell'altra e fino al 16 di maggio l'infrastruttura, il tunnel resterà chiusa proprio completamente e c'è la reazione del territorio andiamo a leggere Fontana Buona in ginocchio con la chiusura della galleria i sindaci della valle dicono una doccia fredda siamo preoccupati e la Croce Rossa denuncia problemi per emergenze e trasporti ordinari i numeri di questo intervento sono 2031 metri di lunghezza del traforo intitolato a Paolo Emilio Taviani sulla statale 225 della Fontana Buona venne inaugurato nel 1971 49 giorni la durata della prima chiusura totale dal 24 febbraio al 14 di aprile dopodiché appunto si è passati ad una viabilità alternativa a senso alternato mentre continua ad essere utilizzata utilizzata la viabilità lungo la strada provinciale 70 di Boasi 22 mesi la durata prevista della percorribilità senso unico alternato e il crollo di giovedì ha imposto una nuova chiusura totale che durerà fino al 16 di maggio e intanto su territori del Tiguglio sta per passare il Giro d'Italia lo farà il 19 di maggio la data in cui è previsto il passaggio del Giro d'Italia proprio in Val Fontana Buona e poi l'ultima cifra abbastanza significativa 23 milioni di euro necessari per portare a termine la riqualificazione del intero tunnel la rabbia delle attività intanto situazione molto grave negozi in seria difficoltà a parlare appunto sono gli esercenti che hanno le attività nella zona appunto del Bargagli di Lumarzo dei due comuni Lumarzo e Bargagli e il cambia anche il calendario degli interventi in autostrada da questo nuovo stop questa nuova chiusura ha dei riflessi anche sul traffico autostradale con la riapertura questa mattina alle 6 del tratto autostradale compreso tra i caselli di Recco e Nervi chiuso l'altro ieri notte in direzione Genova per i lavori nelle gallerie della rotta i cantieri saranno sospesi del tutto fino al 2 maggio prossimo con un'incognita però Aspi ha rallentato il cronoprogramma dei lavori sulla 12 per consentire la manutenzione del tunnel Bargagli-Ferriere i lavori diminuiti in tutto il mese di marzo in parte ad aprile devono essere recuperati ma il crollo che ha coinvolto la galleria Taviani unica arteria di congiunzione tra il Genovesato e la Val Fontana Buona mette in crisi anche le previsioni di recupero di Aspi alle porte dell'estate fino a questo momento la parte più importante dei lavori sulla 12 è sospesa fino all'8 maggio come tutta la rete genovese in questi giorni il traffico ha ricevuto i benefici dello stop ai cantieri la sostanziale assenza di cantieri ha permesso di registrare in questi ultimi giorni condizioni di piena fluibilità lungo le direttrici Liguri con tempi di percorrenza rimasti nella norma hanno sottolineato da Aspi ora si dovrà attendere il dettaglio sui lavori urgenti del tunnel di Bargagli-Ferriere e si dovrà capire se potranno tornare in contemporanea i cantieri in autostrada oppure si dovrà accordare come a marzo quando i lavori al tunnel hanno di fatto chiuso i cantieri che riguardano la A12 una pagina dunca che deve essere ancora definita bene nel dettaglio un altro aspetto di cui si sta parlando in questi giorni lo abbiamo fatto anche noi vedremo fra poco il servizio è quello delle mascherine dal primo di maggio infatti cade l'obbligo di mascherina in diversi contesti intanto c'è la reazione raccolta dal secolo XIX dei commercianti che dicono la normalità si sta avvicinando i gestori dei cinema da cui a fine anno chiuderemo molte sale il cinema è uno dei luoghi dove rimane l'obbligo di mascherina e i pendolari l'obbligo è giusto ma la regola è rispettata soltanto da poche persone anche sui trasporto pubblico resta l'obbligo di mascherina da domani addio al Green Pass è una vera e propria liberazione a parlare i titolari di bar e ristoranti si ricomincia a lavorare nel modo migliore ma su questo abbiamo fatto appunto il servizio riepilogativo dove le mascherine e il Green Pass saranno ancora richiesti dove invece non sarà più necessario abbiamo fatto il punto nel nostro servizio che andiamo a vedere insieme un mese fa la fine formale dello stato di emergenza ma il cambiamento più rilevante nella vita delle persone sarà dal primo maggio l'ordinanza firmata giovedì dal ministro della salute Roberto Speranza riduce i luoghi in cui rimane l'obbligo di indossare la mascherina e in cui servirà esibire il Green Pass almeno fino al 15 giugno le mascherine serviranno sui mezzi di trasporto pubblico di ogni tipo come aerei treni traghetti metro tram autobus scuolabus mezzi con noleggio del conducente servirà la FFP2 stessa regola per accedere a cinema teatri sale da concerti e palazzetti per eventi sportivi al chiuso per le scuole fino alla fine dell'anno scolastico e per gli ospedali e ogni tipo di struttura sociosanitaria bisogna indossare una mascherina almeno di tipo chirurgico non servirà più quindi la mascherina in bar e ristoranti anche se al chiuso luoghi in cui già non serviva quando si stava al tavolo o al bancone nei supermercati nei negozi parrucchieri e barbieri centri estetici per i luoghi di lavoro sia pubblici che privati non è più necessario indossare la mascherina anche se il ministero precisa che rimane fortemente raccomandata al chiuso sempre da inizio maggio non è più obbligatorio esibire il Green Pass per tutte le situazioni in cui era precedentemente richiesto rimane il Green Pass rafforzato ossia quello che si ottiene con la guarigione dal covid o il ciclo vaccinale completo per le visite in ospedale e nell'RSA fino al 31 dicembre rimane l'obbligo vaccinale per tutti i lavoratori del comparto sanitario resta invece in vigore fino al 15 giugno l'obbligo per gli over 50 per le forze dell'ordine e i lavoratori della scuola dunque questo è il punto su dove la mascherina dovrà essere ancora utilizzata e in altri luoghi invece dove non sarà più necessario intanto l'ASL4 ha rimodulato l'offerta sia di tamponi drive-thru sia per quanto riguarda le vaccinazioni pediatriche andiamo a leggere continua la rimodulazione dei servizi dell'ASL4 legati al covid questa volta tocca al servizio tamponi di Rapallo è la linea vaccinale pediatrica di Chiavari a partire da domani il punto di tamponi drive-thru dell'ospedale Rapalese sarà aperto da lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.30 e per l'accertamento per utilizzare il servizio sarà necessaria la prenotazione sarà su prenotazione anche la linea vaccinale pediatrica di Palazzo Ferden a Chiavari qui le vaccinazioni dei piccoli continueranno ogni martedì dalle 14 alle 17 nel lab di Piazza Leonardo intanto il punto nelle ultime 24 ore sono stati registrati 108 nuovi contagi mentre rimangono stabili dopo l'aumento dei giorni passati i ricoveri sono 20 i pazienti ricoverati a causa del virus negli ospedali di Sestre Levante e Lavagna e due di cui due in terapia intensiva cambiamo argomento continuiamo la lettura delle pagine del secolo XIX l'edizione delle Levante in edicola questa mattina con della politica amministrativa un passaggio di consegne un'acquisizione per quanto riguarda il servizio idrico nuova gestione il gruppo IREN acquisisce SAP la società acqua e potabili che sta servendo sono interessati i comuni di Sestre Levante Casarza Ligure Necarasco Moneglia e Cogorno 5 milioni e 300 mila euro il prezzo dell'acquisizione da parte di IREN del 100% della società dell'acqua potabile il gruppo Veolia 5 appunto dicevamo i comuni interessati 34 mila gli utenti del servizio acquedotto 11 mila gli utenti del servizio fognatura e depurazione questi numeri della società della realtà SAP che viene acquisita da IREN a Sestre Levante continua la distribuzione dei kit per la raccolta differenziata in particolare la frazione del secco a partire da lunedì inizierà una sperimentazione per capire la quantità di secco prodotto e in base a quello calcolare anche la tariffa il comune ha ribadito che non ci saranno differenze modifiche per quanto riguarda gli orari del conferimento e le modalità del conferimento servirà solo un nuovo mastello per esporre il secco o i sacchetti con un codice di riferimento inizierà questa sperimentazione che andrà a calcolare il rifiuto effettivo prodotto da ogni singolo cittadino e poi invece per quanto riguarda la lavagna questa volta si è riunito il consiglio comunale di lavagna nella serata di ieri è stata discussa anche la pratica del nuovo market di arenel ma è arrivata anche la notizia che il comune ha ricevuto quella documentazione di cui aveva richiesto più volte copia ovvero quella della commissione regionale paesaggistica che ha imposto il vincolo sulla piana dell'entella e il testo è finalmente arrivato in comune il testo è stato consegnato al comune che appunto ha visto il ricepimento di questa notizia intanto si è parlato anche dell'approvazione del rendiconto finanziario 2021 i primi passi per la costruzione di un nuovo supermarket ad arenel il tutto di fronte ad una delegazione di studenti delle medie della Don Gnocchi in trasferta a Palazzo Franzoni per assistere alla seduta un consiglio comunale denso di contenuti quello di ieri a Lavagna che ha visto per la prima volta il ritorno del pubblico in sala a Palazzo Franzoni e era presente proprio una classe dei Don Gnocchi della scuola lavagnese ad assistere che ha assistito ai lavori restiamo a parlare di politica amministrativa ci spostiamo in redazione perché ci sono novità e aggiornamenti anche da questo punto di vista su questo tema lo facciamo con Maurizio Gareffa a te Maurizio buongiorno buongiorno Andrea un saluto a tutti si è ancora politica amministrativa perché si è concluso ieri sera in tarda serata anche il consiglio comunale di Rapallo tra le pratiche all'ordine del giorno quella più importante naturalmente è quella relativa al bilancio in particolar modo il rendiconto di gestione 2021 nella presentazione del documento l'assessore al bilancio Antonella Onzo ha sottolineato l'aspetto forse più rilevante cioè la presenza di un consistente fondo cassa di oltre 21 milioni di euro un avanzo totale di 17 milioni e un avanzo disponibile di 4 milioni e 659 mila euro la pandemia ha interamente caratterizzato il 2021 ha quindi sottolineato e ricordato il sindaco che ha poi ricordato le principali misure di sostegno varate a sostegno della popolazione di Rapallo residenti commercianti e così via questi dunque i dati più importanti del consiglio di Rapallo la linea può tornare a te Andrea grazie Maurizio restiamo in Teguglio occidentale ci spostiamo però a Santa Margherita Ligure parliamo di un progetto di accoglienza dei profughi che ha visto in campo l'amministrazione comunale ma anche le parrocchie diverse realtà del terzo settore cittadino che hanno portato avanti una serie di progetti di accoglienza di integrazione partiranno a breve anche altri tra cui si concentrerà sugli orti sociali ovvero sulla possibilità di coltivare spazi urbani il cui ricavato proprio il frutto di questo lavoro verrà distribuito anche alla cittadinanza vediamo il servizio di Emanuela Castella il progetto di accoglienza per rifugiati a Santa Margherita Ligure è nato nel 2018 sotto legida del comune che tramite gara lo ha dato in gestione alla cooperativa Lanza del Vasto da allora ci sono 15 uomini singoli ospitati a San Bernardo nell'ex casa dei padri Giuseppini più due nuclei familiari ospitati in alloggi messi a disposizione dalle parrocchie il progetto SAI è un progetto a clessidra quindi a tempo chi entra all'interno del progetto genericamente ha sei mesi rinnovabili di altri sei mesi perché vuole essere una rotazione quindi dare tante possibilità a tante persone diverse il progetto inserito nella rete SAI del Ministero dell'Interno prende in carico le fragilità e avvia percorsi di inclusione quasi tutti gli ospiti hanno tirocini borse lavoro o contratti il lavoro è la strada insomma per ricostruire autonomia e dignità io lo chiamo il trampolino di lancio è la rampa finale per poi spiccare il volo nella vita come la viviamo noi negli ultimi mesi la casa è stata aperta anche a due persone senza fissa dimora che Caritas cittadina ha conosciuto tramite il centro di ascolto uno è Andreas l'altro è Gioacchino originario di Sesto San Giovanni poi trasferito a Bologna dove ha fatto l'agricoltore è successo che mi ero stancato di essere normale di essere inconsapevole più che altro esattamente e adesso sto lavorando per la consapevolezza e sono venuto qua in Liguria per essere più consapevole e così di conseguenza fare ancora più bello il mondo che è una cosa bellissima e dove vivevi quando sei arrivato qua? tutto è mio vivevi sulla spiaggia dove non ci sono disturbi dove non ti disturbano a Gioacchino è stato affidato l'orto della casa ci viene i pomodori vengono bene le zucchine vengono bene è miracoloso non pensavo io ho imparato che anche con 50 cm di terra si può far venire viene tutto lo stesso il raccolto dell'orto viene distribuito tramite Pane Nostro un'altra iniziativa di Caritas e parrocchie è una diciamo una derivazione della Caritas che è nato intanto per reperire le derrate alimentari che sono in scadenza o comunque si rivolgono anche ai panifici alcuni panifici che danno pane e focaccia che avanza nella giornata e anche frutti vendoli il comune ora metterà a disposizione altri terreni incolti per realizzare orti sociali simili a questo il fondamentale è la collaborazione con il comune con le associazioni del territorio comunque questo nasce anche come lavoro di rete cioè la rete poi è il sostegno ed è tutto ciò che fa crescere bene le cose Lasciamo Santa Margherita Liguere torniamo alla lettura delle pagine del secolo XIX la cronaca ci porta a Chiavari con un bimbo ucraino aggredito da un pitbull che era fuggito dall'area canina è successo nella zona della colmata il piccolo otto anni è ricoverato in osservazione al Gaslini sull'episodio indaga la polizia di Chiavari un bimbo che è stato appunto morso in diversi punti da questo cane è sfuggito al controllo dei suoi proprietari weekend del primo maggio controlli contro gli incendi questa volta i vigili del fuoco si preparano anche a questo ponte che in realtà non è un ponte il primo maggio la festività accade di domenica ma saranno tante le persone che proveranno comunque a passare qualche ora all'area aperta e quindi la tensione resta alta soprattutto sui risvolti in caso di fuochi che sfuggono al controllo e provocano incendi è successo anche in occasione di Pasquetta nella zona di Chiavari poi a Camogli di vieto di balneazione guasta l'atmosfera di festa per la sagra del pesce aspetta il comune aspetta le nuove analisi dell'ARPAL ancora su Chiavari il festival della parola è stata presentata la nona edizione della rassegna a Chiavari l'ideatrice Elena Molinari dice il vocabolo simbolo di due anni dopo due anni impegnativi e complessi appunto nel segno dell'ostinazione l'assessora Ilaria Cavo della Liguria un'esortazione e un imperativo rivolto soprattutto ai giovani tanti gli ospiti ne vediamo alcuni in foto Nina Zilli Enrico Vanzina Vittorio Descalzi e Pino Donaggio saranno tante le iniziative in questo calendario che si svolgerà si dipanerà da giovedì 2 giugno a domenica 5 giugno nel filo condottore che è appunto questa parola ostinazione ma su questo abbiamo proprio la presentazione che andiamo a vedere insieme abbiamo sentito l'urgenza di una parola che fosse prepotente che fosse una parola che potesse scuotere gli animi e ostinazione è la parola chiave della non edizione è la parola un termine scelto per dare un messaggio di rinascita soprattutto rivolto ai più giovani considerati i tempi difficili tra una pandemia non del tutto superata e la guerra in Europa ostinazione nella sua eccezione positiva non una perseveranza inopportuna ma il perseguire con forza carisma e passione un obiettivo esempi di ostinazione incarnata vedi per esempio gli ex magistrati i nostri ospiti a raccontare un falcone borsellino a loro volta l'incarnazione di un'ostinazione bella la lotta contro le mafie a tutt'oggi avremo ostinati nella disabilità che con la disabilità hanno riscattato una normalità legittima per citare alcuni ospiti si parla delle attualità con il virologo Andrea Crisanti e la giornalista esperta di Unione Sovietica Anna Zafesova di cinema con i registi Enrico Vanzina e Elisabetta Villaggio musica con Iena Zilli e Stefano Senardi ci saranno poi il senatore Pietro Grasso l'ex magistrato Giuseppe Aiala e lo scrittore Fulvio Abate mi stanno particolarmente a cuore chiaramente gli ospiti della spiritualità che conduco anzi io a fianco il vero conduttore che è Goffredo Ferretto avremo un giovane scrittore peraltro giovane ma premio strega in verità già da un paio d'anni che è Daniele Mencarelli quindi nella sua laicità una spiritualità molto molto travagliata ma molto importante avremo Ludwig Monti ex monaco di Bose quindi un'esperienza legata a padre Enzo Bianchi avremo l'imam Palavicini che torna al festival della parola a rappresentare l'intera comunità islamica nazionale e avremo anche un rappresentante della scuola buddista dopo due edizioni segnate dall'emergenza il festival torna nella sua formulazione a quattro giorni dal 2 al 5 giugno e nei suoi luoghi come piazza la nostra signora dell'orto l'auditorium San Francesco Palazzo Rocca e la società economica quest'anno premiati come ambasciatori della parola saranno il giornalista televisivo Vincenzo Mollica ed Elisabetta Sgarbi editrice regista e direttrice artistica della rassegna culturale La Milanesiana dunque si è messa in moto la macchina del festival della parola torniamo al primo di maggio invece domani la festa del lavoro con diversi servizi garantiti comunque primo maggio in Riviera rimangono aperti super market e negozi domani chiusi solamente i punti vendita di Cop e Basco e c'è la denuncia della Filcam SGL ma dovrebbe essere la festa dei lavoratori per quanto riguarda i rifiuti saranno off limits i centri di raccolta a Rapallo e Chiaveri mentre il servizio autobus resta garantito con gli orari festivi verrà addirittura potenziata la linea che collega Portofino e Santa Margherita Ligure per chi volesse c'è anche la possibilità di diverse iniziative sul nostro territorio una ci porta in Val d'Aveto in Valle dove in questi giorni oggi e domani sarà aperta la mostra micologica curata dal gruppo Grasso vediamo di cosa ci parlerà quest'anno qui giochiamo un po' presentando la miniera come la miniera del latte quindi miniera filiera perché vogliamo pubblicizzare in maniera simbolica una sperimentazione fatta con un'allevatrice locale la Silvia Garibaldi che ha preparato diciamo dei formaggi e li ha con la nostra cosa si trova in mostra noi volevamo presentare i funghi tipici della zona che nascono in primavera quindi le morchelle chiamano spugnole la calocibe gambosa che tutti chiamano spinarele perché è un fungo fratto ricercatissimo e poi le altre specie che dovrebbero nascere in primavera a tempo permettendo queste sono specie commestibili le altre sono molto meno commestibili dove è allestita la mostra e a che ora si può visitare allora la mostra si può visitare dal sabato mattina fino alla domenica sera a Retoaglio in piazza nella piazza pedonale del paese e per la prima volta la facciamo lì su proposta del consiglio del comune di Retoaglio della piazza sindaca in particolare la dottoressa Casaleggi che ringrazio anche pubblicamente mi diceva vediamo quello che si trova diciamo che la società di questi giorni di settimane non sta aiutando i funghi per nulla assolutamente no diciamo che nei pochi posti dove c'è stato un po' di neve il terreno è un po' più umido quindi c'è un po' più speranza di trovare qualcosa però se in questi giorni qualcosina è piovuto diciamo che ci affideremo i cercatori locali che hanno esperienze particolari sanno esattamente dove nascono i primi in generale qual è lo stato di salute dei boschi? è lo stato di salute dei boschi dove lo sono bruciati tutti sono ancora discretamente sani questo proposito dovrei ricordare col parco dell'aveto abbiamo il programma di iniziare uno studio sulla bosseta della miniera della gamba tesa che è persa in pessime condizioni purtroppo ma non per colpa dell'uomo ma per colpa della farfalla che ha invaso il bosso e lo sta distruggendo dopo la mostra ci saranno anche iniziative con le scuole del gruppo micologico? sì per quest'anno per la prima volta avremo un contatto diretto con le scuole di Redoaglio un contatto diretto con la quinta elementare e le tre medie questa è una scelta degli insegnanti della scuola scopo principale di questi incontri quale sarà? cominciare a far conoscere i funghi ai ragazzi farli appassionare farli appassionare alla ricerca del fungo che non deve essere soltanto un accanimento contro il bosco per riempire il cestino deve essere anche una scelta di studio di convivenza pacifica col bosco vorrei dire questa è una delle iniziative che offre propone il Tegulio in questo fine settimana continua anche Euroflora Genova ai Parchi di Nervi adesso nella nostra agenda vediamo gli appuntamenti che sono in programma per la giornata di oggi gli appuntamenti di sabato 30 aprile l'auto emoteca della Fidas sarà in piazza Mazzini e Chiavari per una raccolta straordinaria di sangue dalle 8 alle 18 sui sentieri della transumanza dal lago di Giacopiane a Villa Cella escursione guidata accompagnando le mucche di un'azienda agricola di Perlezzi verso i pascoli della Val d'Aveto ritrovo alle 9.30 a Giacopiane la croce bianca rapallese presenta il libro rapporto emergenza sanitaria SARS-CoV-2 febbraio 2020 marzo 2022 alle 11 all'oratorio dei bianchi di Rapallo l'associazione culturale il bando lo propone nell'incontro Confucio ieri, oggi e domani con la professoressa Emanuela Patella dell'Istituto Studio Orientale di Genova alle 17 in via da Vaschieri 15 a Chiavari a Palazzo Facili Seschi Levante gli studenti del Natta portano alcune letture del Partigiano Johnny di Beppe Fenoglio appuntamento alle 17 Rock is not dead fest al Circolo Acre di San Colombano Certenoli alle 17 contest di Guitar Hero poi dalle 19 musica dal vivo nuovo spettacolo dell'undicesima stagione del Teatro Comunale di Cicagna alle 21 lo spettacolo comico di Ciccone Balbontin lavorare meno lavorare tu L'agenda di Telepace chiude questa edizione del Tg Rassegna Stampa l'informazione torna alle 12.45 con la prima edizione di Tguglio Oggi continua sul nostro sito teleradiopace.com e sul canale 187 Telepace News grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata grazie per aver guardato